Allora oggi in questa serie di video pepita andiamo all'Atalanta, quest'oggi andiamo anche simpaticamente all'Atalanta, voi iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti devastate di like questo video, mi raccomando condividetelo con pagine, network, amici, bergamaschi e non e recuperatevi i video fatti con l'analisi di tutte le altre squadre, anche competitor dell'Atalanta, i video con i voti al calciomercato, il video di ieri con Bressan e tutto il resto. Ma iniziamo subito. Allora nell'analizzare la situazione Atalanta-Rosa e calciomercato parto con la stessa domanda che ha caratterizzato i video su Roma e Napoli, ovvero secondo voi Gasperini che è un po' il lievito madre, il vero fenomeno, il garante del fare Atalanta, è contento di questo calciomercato? Punto di domanda a voi nei commenti e ai posteri l'ardua sentenza integrandola con quello che vi dirò tra poco. Allora, in porta, sezione porta. Ci sta lo scegliere uno tra carne secca e musso, quest'anno cedendo nell'altro, meno il, dopo aver ceduto comprensibilmente musso, prendere Rui Patricio che ha finito la stagione alla Roma panchinato a 36 anni. Potevi tranquillamente prendere o a poco uno che aveva fatto le giovanili da te che si ritrova in giro, o promuovevi i rossi a secondo. Onestamente il senso di prendere Rui Patricio. Non ce lo vedo molto, ma vabbè, è un ruolo anche marginale. Vediamo al resto. Difesa. Kusunu mi piace, è un giocatore che mi piace da diversi anni, che consigliai anche il lotempore al Fubologna, ma l'acquisto di Godfrey? Non potevi mettere Ian Braccetto prendendo un centrale forte, davvero forte? Qualche esempio? Un Danso su cui tu fossi andato prima, senza i casini che poi ha avuto la Roma? Volevi fare la cagata alta, un Gonzalo Ignacio dello Sport in Lisbona? Perché aspettando Scalvini dall'Infortunio e con la Sinaz, mi pare un po' un pacchetto centrale senza molte sicurezza e senza lideristica, anche quello attuale. Veniamo al pacchetto esterni, ma vengo alla simpatica, simpatetica vicenda di Zappacosta, che te lo vedi scendere in campo contro Lecce, dopo nel giro di 24 ore si ritrova davanti sia Bellanova che Quadrado Svincolato, che poi io sono d'accordissimo che dovevi fare un upgrade, ma neanche su uno, sui due esterni di centrocampo che hai, no? Però mi viene da dire, perché al posto di prenderne due, anche qui, non ne prendevi uno solo, ma di livello Champions League da salto di qualità? Per esempio, quel Nico Gonzales che è andato alla Juventus, lo potevi prendere tu e mettere esterno destro, a tutta fascia, un po' come fa con l'Argentina, a piede invertito e che magari ti rientra di sinistro. Ho un Vagnoman dello Stoccarda, no? Esempio. Idem a sinistra. Perché non tentare un healing a suo tempo o, anche qui, vuoi far la cagata alta? Ho visto un Udo G l'altro giorno con la Nazionale, mi immagino un Udo G under Gasperini, un prestito con obbligo, un regalo dopo l'Europa Liga, un'operazione così. Vabbè. Centrocampo, perché prendere Sulemana? Boh, va benissimo Brescianini, che amo ad ora apprezzo, ma ricordiamoci che hai perso con Miners, no? E anche qui, al posto di prenderne uno, ma forte, di livello, cazzo di dire, prende un giocatore fatto e finito, anche qui ne prendi due, ok? Ovvero Samarzic e Brescianini, pretendendo da Gasperini un'altra moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Da un lato perdi certezze eccedendo con Miners, dall'altro ne prendi due che sono ad alto, altissimo livello, per quanto siano potenzialmente buoni, ma tutti da fare. Cioè, anche Samarzic, per esempio, qualità potenziali che non si discutono, ma guardate che non è un giocatore fatto e finito, eh? Cioè, io l'ho anche visto a Udine, è un giocatore che, sotto certi aspetti, è ancora poco maturo calcisticamente, in tante gare sparisce, non è che prendi uno costruito al 100%, eh? Paradossalmente è più costruito già Brescianini di lui, eh? Sulle tre quarti hai preso Zaniolo, vediamo cosa si rivela. In attacco prendi Re Teghi, che per carità funziona ALE, conosce la A, tutto quello che vuoi, ma anche lì, voglio dire, hai vinto l'Europa League, ti sei in fortuna scamacca. Non voglio dire un Ghioceres, no? Ma un Santiago Gimenez che è andato al Nottingham per una cifra assolutamente abbordabile. Questo per dire cosa? Cioè, che a me il calciomercato non ha entusiasmato, anzi, perché hai fatto un'incetta di giocatori, anche molto bulimicamente, suddividendo gli investimenti fatti, che come vedremo sono anche corposi, non in tre, quattro profili forti da Champions League, che dopo la vittoria dell'Europa League ti avessero fatto dire, beh cazzo, ho fatto un salto di qualità finora mai sperimentato. Cioè, andate a vedere le spese sostenute dall'Atalanta. Solo quest'anno, la tua bella novantina di milioni, tra cartellini e tutto, l'hai spesa, eh? Vero che hai anche ceduto, ma comunque 90 milioni sul mercato, li hai messi. Mia domanda, non si potevano mettere meglio, spendere meglio? Cioè, 11 acquisti, ragazzi, eh? Ha fatto l'Atalanta. Non avevi bisogno, secondo me, di questo cambio da porta perennemente aperta. Dovevi confermare nel possibile la maggior parte dei vecchi protagonisti della rosa che avevi, che ti aveva portato a suo modo sul tetto d'Europa. E prendere non 11 giocatori, ma tre, quattro, contando l'infortunio di Scamacca. Un centrale difensivo forte, due esterni di centrocampo forti, un centrocampista tipo un Guido Rodriguez che era svincolato dal Betis che ti aumentasse l'alternativa. Centrocampo e con l'infortunio di Scamacca una punta, anche quella possibilmente forte e di panorama europeo. Non c'era, secondo me, da diventare pazzi così, con un sacco di acquisti, con la maggior parte tutta gente da costruire e di classico livello Atalanta dei soliti anni, no? Cioè hai vinto l'Europa League, ragazzi. Se non fai il salto di qualità vincendo l'Europa League, andando in sempre così. Cosa mi aspetto da questa squadra? Dico buon lavoro a Gasperini. Dico buon lavoro a Gasperini che dopo la vittoria di un'Europa League poteva sedersi, bersi il suo bel cocktail, un bel cocktail taragno, va bene? E dire, oh, per un'estate mi diverto io. Chissà che magari non mi facciano una squadra facendo come ho detto io, cioè con pochi acquisti ma forti da salto di qualità e confermando nel possibile l'impianto generale, chissà che non mi facciano una squadra con la quale posso lottarmi con Inter e Juve perché dire no. Anche io l'ho scudetto anche sulla carta, anche con delle credenziali che mi facciano. Poi il resto ce lo metto io. Ovvio che non avrò mai magari una rosa sulla carta a livello dell'Inter o della Juventus. Però magari avvicinarsi con degli acquisti certezza pochi ma di livello Champions League e il resto ce lo metto io. Qui invece mi sa che Gasperini come quasi sempre deve metterci tanto di suo, no? Mi sembra che sei rimasto sempre un po' a livello solito. In più con un lavoro, visti i tanti cambi, che all'inizio non sarà semplice. Lavoro di cultura, integrazione, adattamento dei nuovi. Secondo me si poteva fare meno e meglio. A questa squadra con, ripeto, molto impegno del mister puoi chiedere un'altra lotta da insider per ritornare in Champions League anche l'anno prossimo. E sarebbe già un grande lavoro, eh? Perché comunque c'hai l'Inter, la Juve, c'hai il Napoli, c'hai il Milan, ok? Poi in Champions hai anche una fase a gironi che è diversa dagli anni precedenti, che ha più partite, che è più ampia e che dovrai fare proprio nel periodo autunnale dove dovrai integrare i nuovi velocemente. Ecco, aggiungo una pepitella. Magari è una squadra che può fare questa qui un interessante insiderismo in Coppa Italia? Magari replicando la finale dell'anno scorso e portando a casa quello che non si è riuscito a portare a casa l'anno scorso? Questa potrebbe essere un cammino interessante. Però per il resto, ripeto, io ho visto tanti, anche quest'estate, quando l'Atalanta faceva incetta di questi acquisti, con la retorica di dire, eh, andata gli si è infortunato Scamacca e in 24 ore è andato su Rete Gui. Sì, ma se poi guardi la situazione precisa, precipua dell'Atalanta e quello che secondo me aveva bisogno per fare un mercato davvero salto di qualità, non l'hai rispecchiato in questa in questa sessione estiva. È cambiato tanto, è cambiato troppo, con tanti giocatori che ad oggi non rappresentano una certezza, ma tutti, nel migliore dei casi, buoni o buonissimi profili, ma tutti da costruire, tutti dell'alveo di gente che bene o male avevi sempre preso, che la prendi a 15, 20, così, e speri che con il lavoro del mister, con l'ecostruttura che hai creato, ti arrivi a essere top player per poi magari rivenderla e ritornare su altri profili da 10, 15, 20 e il solito ciclo, che per carità può anche portare i suoi risultati, funziona, però quest'anno a mio avviso si poteva fare quel passettino, quel passettino in più, cazzo, 90 milioni, se li suddividevi in tre giocatori a cartellino, magari andavi veramente a cementificare certe posizioni ed era un altro vedere. Ecco, questo io dico, è un po' di caos. Ditemi la vostra nei commenti, recuperatevi tutto, devastate i like, ciao!